Delirio Alessandria, tutto sport. Che miracolo, la gazzetta dello sport. Alessandria, che favola, il corriere dello sport. E fu così che i grigi, con la vittoria per 2 a 1 di ieri sul Genoa, guadagnarono, oltre ai quarti di finale di Team Cup, anche tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali. Un match, quello giocato con il cuore dai ragazzi di Mr. Gregucci e col sostegno di 2.500 tifosi Alessandrini a Corsi e Almarassi, che entra a buon diritto tra le imprese impossibili. Quelle che però, quando riescono, fanno sognare a occhi aperti. Da tempo non si vedeva una squadra di terza serie entrare tra le prime otto in Italia. Ed è la prima volta che accade da quando la Coppa Italia si gioca a eliminazione diretta. La vittoria del gruppo, dicono i protagonisti. Ma poi vai a guardare i voti e scopri che Boccalon, ma soprattutto Marras, Vannucchi e Nico hanno tutti preso otto in pagella e hanno trascinato il gruppo verso la vittoria. E un otto bisognerebbe darlo anche a Mr. Gregucci. Ci voleva coraggio ad andare a giocare in pressing con difesa alta, con una squadra di due categorie superiori. E poi a mettere dentro Boccalon, quando tutti avrebbero messo un altro centrocampista al posto di Marconi. Ora società, squadra e soprattutto tifosi vogliono la Roma e quarti. Lo Spezia fa sognare di meno e soprattutto ricorda troppo da vicino le sfide degli ultimi decenni passate in terza serie, che i grigi vogliono al più presto lasciarsi alle spalle.